Signor Faraday? Chi lo cerca? Mi scusi, il barista mi ha detto che... Dimmi tutto, bello. Che ti ha detto il barista? Mi ha detto che qui potevo scommettere. Oh, sì, sì, certo. C'è un tavolo pronto. Accomodati, avanti. Grazie. Accomodati pure. Buonasera. Buonasera. Credo che mi unirò a voi. Buonasera. Buonasera. Hai vinto con i cavalli? Con i cavalli? No, non sono un gran scommettitore. Oh. Oh, beh, iniziamo con una mano semplice. Carte servite, apertura ai jack. Mi scusi, signor Faraday. Apertura ai jack significa che... Deve avere almeno due jack? Deve avere due jack o di più per aprire. Se nessuno ce li ha, la mano successiva si apre alle regine. Grazie mille. Comincio a ricordare adesso. Due regine. Grazie. Toglia il mazzo. Grazie. Apro io di cento. Che succede, amico? Stai male? Tra poco passerà, signor Faraday. Me ne vedo. Anch'io. Rilancio dei cinquecento, amico. Sei messo piuttosto male. Da quanto? Da parecchi... Da parecchi anni. Sto per ripulirti, lo sai, è vero? Sì. Sì, lo so. Lo so, signor Faraday. Ma starò... Starò meglio. Tra poco. Mi dispiace, mi dispiace di rallentare il gioco. No, no, no. Non rallenti il gioco, amico. È la tua grande occasione. A che ti servono i soldi? Avanti, dimmelo, mi interessa. Davvero? Vede, signor Faraday. Voglio essere di nuovo giovane. Marie è mia moglie. Marie è io. Vogliamo dei nuovi corpi, ma... costano diecimila dollari e noi ne abbiamo solo la metà, così pensavo... Ma ho sbagliato.